Un palloncino per il test del palloncino. Per il test del palloncino innanzitutto bisogna gonfiare, gonfiare, gonfiare un palloncino, annodarlo e bisogna avere soprattutto per questo test questa qua che è una spinetta come dire, sì, perché bucando il palloncino possiamo vedere la quantità di alcol che si trova all'interno del palloncino. Il test del palloncino.